Benvenuti all'appuntamento settimanale Lega Informa, la trasmissione che vi tiene aggiornati su quelle che sono le iniziative dei consiglieri regionali della Lega e quest'oggi abbiamo come gradita ospite Luciana Bartolini, benvenuta Luciana allora con te Luciana iniziamo a parlare di sanità che tanto è un argomento sempre molto sondato e gettonato dai media per le varie problematiche che ci sono in essere in Toscana da circa un anno, se non ricordo male, a Pescia non nascono bambini ma è un problema di mancanza effettiva di procreazione, di volontà di far nascere dei bambini o ci sono delle problematiche all'ospedale Pesciatino? Le problematiche sono che l'ASL Toscana Centro ha deciso di chiudere il punto nascite dell'ospedale di Pescia quindi da circa un anno il punto nascite è chiuso e quindi non nascono più bambini all'ospedale di Pescia questo è un danno non solo per Pescia ovviamente ma per tutta la Val di Nevole perché il nostro ospedale dei Santissimi Cosmo e Damiano viene utilizzato dagli abitanti della Val di Nevole e non solo, anche da Alto Pascio, Capannori, zone limitrofe ovviamente ricordiamo anche che la zona di Pescia è una zona fatta da tante castelle quindi ci sono dei paesi, delle frazioni anche lontane, diciamo in montagna è un ospedale cosiddetto territoriale che quindi ha bisogno di tutti i servizi in primis quello del punto nascite che è stato chiuso perché invece dei 500 parti che servirebbero ne sono stati fatti 450 nel 2021 quindi è stato un numero veramente anche irrisorio dovuto probabilmente anche al Covid perché in quel periodo lì molti si sono spostati su Pistoia per svariati motivi io mi sono sempre battuta per gli ospedali territoriali perché la Toscana non è fatta di Pisa, Firenze e Siena è fatta di montagne, di valli, di arcipelago, di zone interne che hanno lo stesso diritto degli altri, gli abitanti di queste zone di avere una sanità giusta per questo, diciamo, l'ospedale di Pescia mi è nel cuore anche perché è il mio ospedale è stato depotenziato nel tempo, troppe volte a partire dalla pediatria di non mi ricordo quanti anni fa è stata tolta la pediatria e da lì poi la conseguenza è anche il punto nascite ora una mia mozione presentata in Commissione Sanità fa sperare, fa sperare perché è stata approvata anche dalla maggioranza riguardava appunto il punto nascite di Pescia si spera di poterlo ripristinare i problemi grossi però sono nel personale perché per ripristinare il punto nascite sotto i 500 parti occorrono certe caratteristiche date dal Ministero tra cui pediatri e ginecologi H24 il problema dei medici è un po' in tutti gli ospedali nostri non solo in Toscana, penso anche in altre regioni perché ce ne sono pochi e poi c'è questo discorso dei gettoni che ha un po' ha un po' scombussolato le carte credo e quindi bisognerà che le ASL si rimettono lì a un tavolo a vedere di gestire meglio a livello amministrativo anche i vari ospedali perché è giusto che la sanità territoriale sia implementata e non depotenziata Sì, è stata sempre importante la sanità territoriale l'abbiamo vista ancora di più durante la pandemia il Covid e la carenza di personale medico, infermieristico e osse è piuttosto generalizzata in Italia e si fa sentire in modo anche particolare in Toscana per quanto riguarda Pescia quindi tu sei ottimista, pessimista, realista più che altro probabilmente ora la palla passa al Ministero della Sanità o che comunque ha diciamo molta voce in capitolo certo è che ci sono i cittadini che premono la politica con la Lega in primis che punta alla riapertura quindi magari tutti uniti si otterrà il risultato finale Sì, addirittura anche Confcommercio ha detto la sua perché il problema è anche diciamo economico sociale perché Pescia è una zona diciamo l'ultima della Val di Nievole si può dire e quindi togliere diciamo reparti all'ospedale di Pescia è un depotenziare anche economicamente tutta la zona che già ha problemi di infrastrutture diciamolo di tutti i generi quindi l'ospedale per Pescia io credo che sia di primaria importanza quindi tutti insieme bisogna cercare di ripotenziarlo in qualche modo anche facendo ricorso alla telemedicina che oggi se ne parla perché tante cose si possono fare però occorrono le strutture per la telemedicina che non sono da poco però bisogna che l'ASL se ne faccia carico e occorre io credo anche proprio una riorganizzazione interna le tre ASL noi siamo sempre stati come Lega Contraria le tre grandi ASL che noi chiamiamo le ASLone perché forse è più difficile anche organizzare vari territori con le ASL provinciali forse le cose andrebbero meglio e le nostre battaglie sono anche in questo senso quindi speriamo comunque un segno di speranza c'è che potrebbe essere anche ristrutturare il reparto per altre cose diciamo però il punto nascite è importante è basilare per un ospedale di quel livello lì certo speriamo di avere allora non in tempi biblici buone notizie passiamo a un altro argomento che in qualche modo coinvolge gli ospedali però è un qualcosa, un servizio da offrire se non ho capito male anzi dovrebbe essere così a chi lavora negli ospedali tu hai fatto un atto che è stato poi approvato in cui chiedi che all'ospedale San Jacopo di Pistoia ma che poi la cosa possa essere allargata allargata anche negli altri nosocomi toscani la presenza di un nido aziendale a Pistoia c'era già l'ex al vecchio ospedale del Ceppo chiedi che venga riproposto anche al nuovo San Jacopo per dare modo appunto a chi ha figli piccoli e lavora negli ospedali di avere questa opportunità, questo servizio giusto? giusto, giusto perché gli asili nido fra l'altro l'Europa ci dice che nel 2030 bisognerebbe che almeno il 50% dei bambini sotto tre anni frequentasse un nido per varie motivazioni in primis perché c'è una maggior conciliazione tra famiglia e lavoro in particolare per le donne perché poi sono le donne che accudiscono i figli che li allattano eccetera quindi la presenza di un asilo nido aziendale in generale in qualunque azienda ma in particolare direi anche negli ospedali che si prestano bene se hanno delle stanze o anche una struttura esterna che può essere utilizzata come hanno fatto a Careggi nel 2016 è stato inaugurato questo nido aziendale con grande soddisfazione di tutti gli operatori dell'ospedale e questo sarebbe per due motivi il primo riconoscimento a tutti gli operatori ospedalieri per il gran lavoro fatto ancora nel periodo del Covid perché bisogna continuare a ringraziarli non chiamarli solo eroi ma fare qualcosa di concreto no, fare qualcosa di concreto poi perché oggi continuano a essere eroi diciamo tra virgolette perché con la carenza di personale i loro turni sono abbastanza massacranti per non parlare di pronto soccorso quello è un argomento a sé stante quindi dare questa opportunità dovrebbe semplificare la loro vita sicuramente è stato fatto diciamo un asilo nido aziendale è stato progettato all'ospedale anche Misericordia di Grosseto e sono arrivati al punto ora di arrivare a fare una manifestazione di interesse cosa che dovrebbe essere fatta poi anche per il Saiacopo o per gli altri ospedali che ne richiedano una manifestazione di interesse appunto per raccogliere i fondi e iniziare veramente a mettere sul progetto la prima pietra del progetto io ho presentato questa mozione perché avevo letto un appello dell'ordine dei medici di Pistoia e l'ordine degli infermieri che suggeriva proprio di creare un asilo nido aziendale ecco letto questo allora mi sono diciamo attivata proprio per farlo quando l'ho presentata in commissione sanità che non è la mia commissione ho trovato un clima favorevole anche da parte della maggioranza qualcuno che potrebbe essere un'idea eccetera quindi speriamo veramente mi dà diciamo quasi un po' di ottimismo questa mozione approvata così anche abbastanza velocemente che si possa non dico domani perché ci vogliono i suoi tempi arrivare ad avere un asilo nido aziendale all'ospedale San Jacopo bene allora abbiamo parlato di due temi molto importanti uno riguardante la riapertura del punto nascita a Pescia e questa bella iniziativa anche del poter avere dei nidi aziendali negli ospedali toscani io ringrazio quindi Luciana Bartolini di essere intervenuta seguiremo l'evolversi anche di queste vicende e grazie a voi per l'attenzione alla prossima settimana grazie a tutti